Util fornisce attrezzature alle officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, fabbri e gommisti, assicurando sempre avviamento dei macchinari e assistenza tecnica continua. Conto alla rovescia per il ritorno tra i banchi di scuola. Sono infatti quasi 8 milioni gli studenti che questa settimana dovranno riaprire i libri e dire addio al mare alle ore di relax che li hanno accompagnati per i tre mesi estivi. Ma se per molti studenti la scuola riprende oggi, per gli altri se ne riparla giovedì. Oggi a Cava dei Tirreni è stata la volta dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII e dell'istituto di istruzione superiore della Corte Van Vitelli. Mentre domani toccherà all'istituto di istruzione superiore Gaetano Filangieri e all'istituto comprensivo Balzico. Per tutti gli altri la prima campanella suonerà il 15 settembre. Giovedì sarà la volta anche della scuola d'infanzia. Sono oltre 978 mila in tutta Italia i piccolissimi studenti che torneranno a sedersi tra i banchi. Nel Sarenitano si registrano numeri più elevati. Per le scuole primarie infatti saranno circa 5.331 i grembiolini bianchi e blu che da giovedì si muoveranno accompagnati dai propri genitori alla volta delle 268 classi presenti su tutto il territorio. L'anno scolastico inizia comunque con le solite cherelle sul numero dei docenti ancora da nominare. e con la questione dei trasferimenti di oltre 908 professori ancora da revisionare. Infatti per alcuni docenti che hanno ottenuto il trasferimento ancora non c'è certezza sulla destinazione definitiva.